Siamo al centro commerciale Marimonti, oggi è il 16 ottobre di sabato, siamo in compagnia della scuola di ballo della Caribe Lobo. Sono con le direttrici artistiche Valeria Raffalzena Ciao, a proposito di ciao, mi sembra che è un ciao esclusivo per Cam Cam Video. Più gatte! Di più, di più! Ciao! Tutte e tre insieme! Ciao! Ciao! Cam Cam! Cam Cam! Cam Cam! Cam Cam! Pico!